Il benvenuto alla nuova puntata di Con i frutti della terra arriva dalla Reale Ferrarese, siamo ospiti dell'azienda agricola di Mauro Guerrini per vedere all'opera il nuovo T5 Smartrax di New Holland. Un trattore molto apprezzato non solo per la versatilità che contraddistingue la gamma utility ma anche per i benefici collegati al particolare assetto di questa soluzione sviluppata in collaborazione con Camso, azienda leader nella produzione di sistemi cingolati. Un modello che si adatta perfettamente alle esigenze delle aziende a vocazione mista e dei contoterzisti e che passa con disinvoltura tra le diverse lavorazioni, il tutto con i benefici di una maggiore trazione e di un ridotto compattamento del terreno. Andiamo allora a conoscere nel dettaglio questo modello, il T5 Smartrax, un modello molto apprezzato perché rientra nella gamma utility e quindi la versatilità è la parola chiave ma poi la soluzione specifica con il semi cingolato sviluppato da Camso quindi anche tutti i benefici legati al minor compattamento del terreno ma insomma ne parleremo tra poco. Allora qui con noi Nicola Lusvardi, Product Specialist Trattori New Holland e Giuseppe Tratta, responsabile sviluppo Mercato Europa per Camso. Allora Nicola partiamo dando uno sguardo d'insieme come nasce questo modello, come nasce anche la collaborazione con Camso, quali esigenze c'erano alla base e cosa siete riusciti a realizzare. Questo è un progetto che parte all'inizio del 2018, che Giuseppe ha seguito fin dall'inizio, è un progetto che è nato per andare incontro a una serie di esigenze del mondo agricolo. Le esigenze erano legate a tutta una serie di lavori di preparazione del terreno, quindi lavori leggeri, per i quali serviva una ridotta pressione al suolo. È stato quello l'inizio della collaborazione per lo sviluppo di questo tipo di trattore. Si potevano scegliere anche altri trattori, ma questo era quello che dava la combinazione migliore fra il peso, la potenza e la superficie che se ne poteva ottenere al suolo. I modelli su cui oggi è disponibile questo tipo di soluzione sono due modelli della gamma T5 Utility. Il 105 con il ponte Supersteer o il modello da 115 cavalli con il ponte di classe 1, un ponte fisso standard. Entrambi i modelli montano un motore F5C a 3,4 litri di cilindrata e sono disponibili con trasmissione dual command, ovvero con inversore elettroidraulico e mezza marcia ILO. La soluzione è disponibile in diversi tipi di carregiata, carregiata di 1.500, 1.600, 1.800 e 2.000 e con la possibilità di andare allestirla con due cinghie. La cinghia da 34 e la cinghia da 45 centimetri. Davanti troviamo gomme che ovviamente a seconda di come viene configurata la macchina possono essere con raggio 20, raggio 24 e con larghezze che si adattano perfettamente a quella che è la larghezza della cinghia. Quindi larghezze che vanno da 320 a 4,40 per quanto riguarda la gomma anteriore. La macchina una volta che viene trasformata con il cinghio nella parte posteriore ovviamente aumenta il suo peso e passa ad un peso di circa 52 quintali. È omologata per ciclare su strada, una volta che viene montata la soluzione cingolata la macchina passa da un trattore a un vero e proprio cingolo. Tuttavia nonostante diventi un vero e proprio cingolo non perde i 40 km orari come velocità massima raggiungibile su strada e non perde la possibilità di andare ad attivare e inserire la doppia trazione. Detto questo direi di passare a quello che è sicuramente la caratteristica più importante di questa macchina quindi Giuseppe per favore se puoi introdurci quelli che sono i componenti e le caratteristiche principali di questa soluzione. Certamente, allora partiamo dalla prima difficoltà del progetto ovvero avendo una ruota motrice molto piccola per riportare il 4x4 siamo intervenuti sulla trasmissione. In collaborazione con l'ingegneria del New Holland abbiamo definito il rapporto di trasmissione corretto in base alla dimensione della ruota. Questo è stato il primo lavoro e che è la cosa fondamentale che dà l'unicità a questo tipo di trattore in questa gamma. Dopodiché l'altra caratteristica fondamentale è la cinghia. Cinghia che come ha già detto Nicola è in due dimensioni 34 o 45 cm sviluppata per diverse esigenze proprio di culture. Le culture richiedono per andare in interfila larghezze diverse a secondo del tipo di cultura che vengono a fare. Altra caratteristica fondamentale della cinghia è la caratteristica dei ramponi che ha richiesto parecchio studio per avere un buon comportamento su strada e un'ottima trazione in campo legata anche ad una autopulizia del sistema. Quindi definita la cinghia, definito il rapporto di trasmissione della ruota passiamo al sottocarro il quale è caratterizzato da due idler che tengono in tensione la cinghia e quattro coppie di rulli che sono montati a due a due su dei sistemi che noi chiamiamo bugi e hanno la caratteristica di essere senza manutenzione e poter seguire il terreno sia nella direzione longitudinale che nella direzione trasversale. Quindi un ottimo accoppiamento fra la superficie della cinghia ed il terreno. Altra caratteristica fondamentale è che per ottenere una lunghezza a terra centro centro di 1.350 siamo dovuti intervenire sulla modifica del serbatoio del trattore. Diversamente avendo a disposizione solo lo spazio della gomma non avremmo potuto avere a disposizione tutto lo spazio che ci viene concesso dalla modifica del serbatoio. Ovviamente il cinghia può basculare intorno ad un punto fisso che è questo e basculando può seguire il terreno in tutti gli avallamenti. E se non ricordo male per modificare la carreggiata oppure per andare a sostituire la cinghia il processo è abbastanza semplice? Parliamo di massimo mezza giornata di lavoro perché dobbiamo cambiare carreggiata una piccola specificazione. Ci sono delle colture seminate a 7.50, ci sono delle colture seminate a 4.50 per poter andare con le ruote in interfila. Le carreggiate passano da 1.500 per il 7.50 e 1.800 per il 4.50. E addirittura nel 4.50 si montano le cinghie più strette, ecco perché la possibilità di montare cinghie da 4.50 massima riduzione della pressione al suolo, 4.50 possibilità di andare in interfila dove le file sono seminate a 4.50. Un'altra caratteristica fondamentale è di avere gli idler e i rulli completamente in metallo per ridurre il problema di incollaggio del terreno su queste parti metalliche che danneggerebbe poi la cinghia abbiamo introdotto tutta una serie di scraper, delle lame che tengono perfettamente pulita la superficie del cinghie. Stiamo parlando di questi oggetti. L'ultimo aspetto ma non meno importante è la compatibilità di questa macchina con tutte le tecnologie richieste dall'agricoltura 4.0. Come potete vedere questa macchina è equipaggiata con guida automatica con un livello di precisione RTK. La guida automatica è stata installata al fine di migliorare la produttività in tutte quelle operazioni che richiedono una precisione assoluta, dalla semina alle lavorazioni interfilari, al fine di migliorare la produttività e velocizzare le operazioni. I terreni su cui oggi vediamo all'opera il nuovo T5 Smart Trucks sono quelli di Mauro Guerrini, un'azienda molto grande, la sua ha oltre 2.000 ettari di terreno, siamo nelle valli di Mezzano e complessivamente tutta l'azienda si estende comunque nell'ambito della provincia di Ferrara. Allora le chiedo subito di farci un ritratto della sua azienda, dicevamo oltre 2.000 ettari, che tipo di lavorazioni, di coltivazioni, cosa caratterizza la sua azienda? La mia azienda è probabilmente pomodoro, mais, grano e un po' di vigneto, diciamo quelle sono le culture principali in cui lavoro. La mia azienda è nata da mio padre, l'ho presa in eredità e pian piano l'ho sempre cercato di migliorarla. Quando l'ha presa erano 7 ettari e adesso sono oltre 2.000, come ha fatto? È stato bravissimo. Bravissimo, la passione, la passione mi ha premiato. Forse anche l'intuizione di investire nei mezzi giusti, nella tecnologia che serve. E da quanto tempo è entrata a far parte anche questa macchina, del suo parco macchina? Questa qui è stata acquistata l'anno scorso, nel 2019, che era già 2-3 anni che la inseguivo che ancora sul mercato non c'era. Quando appena è stata in vendita io ho preso questa qui con l'omologazione stradale che attualmente serve per essere in regola per girare per strada. Credo di essere stato il primo a averla acquistata, questa macchina qui. Che lavorazioni esegue con questa macchina? Queste qui macchie tutte le lavorazioni leggere, dalla preparazione ai terreni, al sciarchio, sciarchio per il pomodoro, trapianto pomodoro, semine, come state vedendo ora, un po' tutte le lavorazioni leggere. Andiamo ad ascoltare la testimonianza di Eros Gualandi, presidente della cooperativa Il Raccolto, che già da tre anni ha introdotto questa soluzione sul modello più grande, sul T8, ma dalle prossime semine primaverili entreranno anche tre modelli come questo all'interno del parco macchine della cooperativa. Quali sono i vantaggi di questo tipo di soluzione? Questa soluzione combina i vantaggi di utilizzo e la manovrabilità di un trattore ruotato ai vantaggi di minor compattamento dell'asse posteriore gravato dal maggior peso su cingolato. Quindi sostanzialmente andiamo a ridurre molto significativamente, nell'ordine di due terzi rispetto alla macchina ruotata, anche nelle migliori condizioni di equipaggiamento di pneumatici specifici, il compattamento al suolo. Il compattamento è un grande nemico della nostra attività di agricoltori, in quanto oltre a rovinare la struttura ha delle conseguenzialità dirette sullo sviluppo radicale delle piante, riducendone lo sviluppo, quindi diminuendone l'efficacia rispetto alle funzioni che questa parte della pianta ha e rallentando quelle che sono tutte le fasi fenologiche di accrescimento. Per cui mantenere quello che è un letto di semina, come quello che vediamo, ben preparato, anche nella parte di terreno dove le ruote hanno il campestio, evitandolo, riducendolo con i cingolati, diamo la possibilità alle piante di svilupparsi molto meglio. Peraltro il ripetersi di questa operazione a basso compattamento, anche nelle operazioni che seguiranno, le operazioni culturali come le attività di Ninterfila, di Gerbo o altro, metteranno in condizioni in tutta l'arco della produzione della cultura autunnale, come in questo caso primaverile, se parliamo di pomodoro, di mais, di soia, di barbabietola, di poter contare sempre su uno strato di coltivazione ottimale da questo punto di vista. È importante perché in un contesto di cambiamenti climatici avvengono sempre in termini di piovosità o aridità fatti estremi che è possibile contenere con una buona struttura, ovviamente se accompagnata anche da un buon tenore di sostanza organica. Sono le miglior difese che la natura ci dà e che noi cerchiamo di amplificare con le tecnologie di cui in questo caso New Holland ci fornisce. La nostra esperienza è nata sulle grandi macchine, utilizzo principalmente estivo per la lavorazione principale, ma i benefici che già in quella fase di minore criticità e sensibilità ci hanno evidenziato, abbiamo voluto portarli anche nelle fasi di maggiore criticità. Quindi questa categoria di macchina metterà in condizioni la nostra e in condizioni tutti i potenziali fruttori di queste tecnologie di contribuire a migliorare quello che è lo stadio di accrescimento delle nostre produzioni, quindi di avere anche aumenti di resa e in certi contesti come quello del drenaggio sotterraneo permanente nei terreni rappresentano la garanzia di continuità di una buona struttura del terreno, il che ci mette in condizioni di essere più preparati a raggiungere gli obiettivi che ci poniamo.